A distanza di tre mesi siamo ritornati al GOM, eravamo stati qui a dicembre per descrivere un po' la situazione della terapia intensiva nella fase forse più calda, difficile dell'emergenza Covid. Dopo tre mesi la situazione, possiamo dire che sia migliorata, ma ce lo faremo dire da dottor Macheda, direttore del reparto di terapia intensiva del grande ospedale metropolitano. Fermo restando che, e lo vedremo a breve, nei reparti ordinarie ancora la situazione non è del tutto così fluida. Buongiorno dottor Macheda, com'è la situazione oggi al GOM di Reggio Calabria per quanto riguarda la terapia intensiva? Buongiorno a lei, diciamo che ormai da circa due settimane i numeri per fortuna sono contenuti. Stiamo viaggiando su 6-7 pazienti e questo infatti ci consentirà a breve di poter sistemare questi pazienti in un'ala della terapia intensiva, separandoli nettamente da un'altra parte dove faremo la terapia intensiva per i pazienti non Covid. Quindi, diciamo, c'è una flessione in terapia intensiva, purtroppo non c'è, come abbiamo detto prima, nei reparti medici, dove i numeri continuano ad essere alti e riflettono anche l'andamento dei contagi che è abbastanza elevato, poi nella nostra provincia in maniera particolare. Questo secondo lei perché, nonostante si sia registrato comunque un calo rispetto a una decina di giorni fa, quando i casi in provincia di Reggio erano anche superiori ai mille? Beh, c'è una fascia importante di gente non vaccinata, quindi questo può essere una spiegazione. Infatti tanti dei pazienti che arrivano, se non la maggior parte, sono non vaccinati, in terapia intensiva senz'altro. Che età hanno? Ma l'età è variabile, abbiamo avuto pazienti giovani, in atto abbiamo una media un po' più alta, tra i 65 e i 70 anni, ma nella settimana scorsa e nei giorni precedenti abbiamo avuto anche gente giovane, 35-40 anni. Purtroppo si continua a morire di Covid? Si continua a morire, sì, molti di questi pazienti, bisogna anche dirlo, hanno tante comorbidità, ma sicuramente il contagio da Covid e lo sviluppo della malattia Covid può alla fine diventa una causa determinante di queste morti. Alcune forme, specialmente nei giovani, sono particolarmente aggressive. Sappiamo bene che dipende anche dalla reattività, dalla responsività del nostro sistema immunitario che è differente da un paziente all'altro. Per chiudere, quando sarà operativo questa nuova ala che vi consentirà di ammorbidire un po' anche il peso nei reparti? Sicuramente tra un paio di giorni, perché abbiamo approfittato anche per fare alcuni lavori che si stanno facendo in reparto, come lei ha avuto modo di vedere, la messa a punto di alcuni sistemi antincendio, e quindi penso che nell'arco di due o tre giorni, se i numeri rimangono questi, speriamo proprio di sì, potremo dedicare una parte del reparto ai pazienti non Covid.